bene amici sportivi da giuseppe cinà un cordiale benvenuto a questo nostro appuntamento settimanale contro market scommesse stavo guardando sullo schermo e tra poco lo vedremo anche lo vedrete anche voi sui vostri teleschermi come ci siamo lasciati ben tre settimane fa quando la serie b è andata in letargo perché tre lunghe settimane di sosta e ci eravamo lasciati con la chiusura del giorno d'andata con il palermo in testa grazie al successo sul campo del crotone per 2 a 1 nell'ultimo appunto di campionato un successo firmato da hernandez e da lafferty che hanno portato il palermo sul 2 a 0 e nandese subito inizio partita poi lafferty nella ripresa 58esimo e poi il cotone era raccocciato è riuscito a raccocciare le distanze con dezi quella vittoria portò il palermo a quota 40 mentre per quanto riguarda il trapani ricordiamolo fu una grandissima bella partita quella del trapani sul campo del brescia un trapani che era andato per primo in vantaggio con matteo mancoso al trentesimo poi caracciolo per il brescia pareggiò sul calcio di rigore andò in vantaggio il brescia per 2 a 1 con budel al 48esimo quindi il primo tempo si era chiuso sul risultato di 1 a 1 nella ripresa subito segnò budel per il brescia portando la squadra bresciana sul 2 a 1 ha pareggiato inizetto per il trapani al 59esimo e poi a tempo scaduto grossa tegola per la squadra granata questo gol al 91esimo di benali del brescia si pensava che fosse tutto mai deciso per quanto riguarda questa partita invece al 94esimo quindi al quarto minuto di recupero pagliarulo per il trapani è riuscito a trovare un prestigioso 3 a 3 che ha mantenuto il trapani con gli stessi punti del brescia entrambe adesso sono a quota 30 entrambe diciamo sì nella zona che conta quella dei playoff quindi un trapani che ha concluso il giorno di andata con un ottimo risultato questa la ricordiamo è la classifica alla fine giornata di andata quindi dopo 21 giornate praticamente ogni squadra ha incontrato tutte le altre rimane ancora in sospeso soltanto la faccenda tra carpi e padova partita che ricordiamo lo restò sospesa per un guasto all'impianto di illuminazione stiamo parlando delle prime giornate di campionato quindi un guasto all'impianto di illuminazione e questa diatriba ancora non è stata per via di ricorsi reclami e così via nell'ultima sentenza si doveva ridisputare questa questa partita invece il padova ha ripresentato un nuovo reclamo insomma ancora questa situazione è aperta ed è l'unica situazione aperta perché nel frattempo in questo periodo di sosta c'è stato recupero tra novara e varese finito anzi diciamo varese novara finito 1 a 1 quindi varese adesso è a quota 28 il novara lo troviamo a quota 21 e in più in questo frattempo hanno dato altri due punti di penalizzazione al siena che adesso è a meno 7 e quindi la classifica del siena che aveva 29 punti prima di questi altri due punti di penalità adesso è a quota 27 lo troviamo in una posizione di classifica certamente non comoda ma che comunque può essere recuperabile facilmente perché il siena è a soli tre punti diciamo alla zona che conta quella dei playoff anche se è a 6 punti in questo momento dalla zona pericolosa ma non è certamente un problema del siena perché il siena sul campo di punti ne ha conquistato i 34 quindi come squadra sarebbe una squadra in questo momento da quarto posto in classifica tra l'altro è un siena che ha anche il miglior attacco del campionato 35 sì 35 reti quelle del siena segnate fino a questo momento è un siena che andrà a giocare lunedì sera quindi nel recupero nel posticipo di serie b andrà a giocare fuori casa sul campo del crotone vediamo una situazione per quanto riguarda i ritardi non ci sono squadre che non pareggiano da molto tempo mentre c'è come squadre ci sono come squadre che non vincono da molto la juve stabia che non vince da 16 c'è il modena che sarà il prossimo avversario del palermo qui al renzo barbera che non vince da 9 partite e c'è la regina che non vince da 8 questi sono i tre maggiori ritardi per quanto riguarda le vittorie abbiamo visto che di particolare rilievo non ci sono partite ritardi insomma di pareggi notevoli mentre invece il computer ci segnala che per quanto riguarda le serie positive non perdono da 8 turni sia il Brescia che appunto il Trapani che si sono proprio incontrate nell'ultimo turno di campionato andiamo avanti per vedere adesso sempre della serie B soprattutto per ricordare che alla fine del giorno d'andata c'è Matteo Mancosu in testa nella classifica dei marcatori con 14 gol poi al secondo posto troviamo due attaccanti di valore anche loro Caracciolo e Pavoletti, Caracciolo del Brescia e Pavoletti del Varese poi c'è Tavano a quota 12, Vivioti e altri tra cui Hernandez che a quota 11 gol segnati per quanto riguarda il Palermo per quanto che c'è nel traccante del Caracciolo del Brescia ricordiamo che ha segnato sinora molti gol in casa 10 e soltanto 3 in trasferta detto questo diciamo che adesso dovremmo andare a vedere eccola qua una scheda che ci riassume il cammino del Palermo in tutto il girone di andata il Palermo ha conquistato 7 vittorie in casa 5 in trasferta ha segnato in maniera diciamo sì uguale quasi 17 gol fatti in casa 16 fatti in trasferta ha chiuso il girone di andata con due vittorie consecutive ma è un Palermo che nonostante sia primo in classifica per essere diciamo sì una capolista alla fine del girone di andata è un Palermo che ha già perso comunque 5 partite due in casa quella la prima casalinga contro il Forte Empoli e l'altra l'ha persa in casa contro il Latina sempre con lo stesso risultato 2-1 ha perso in casa con l'Empoli 2-1 ha perso con il Latina in casa e queste sono state le due sconfitte casalinghe e poi ce ne sono state tre fuori casa fuori casa sul campo dello Spezia per 1-0 fuori casa a Bari per 2-1 e l'altra sconfitta quella a Carpi per una rete a 0 queste le cinque sconfitte del Palermo che comunque con 40 punti resta primo con un punto di vantaggio sull'Empoli ricordiamolo che conta arrivare tra le prime due per essere direttamente promossi in Serie A altrimenti poi bisogna andare a fare una specie di non una specie di playoff e tra l'altro non più con quattro squadre ma si saranno sei le squadre che dovranno disputarsi tramite playoff la terza promozione quindi ancora un pochettino più complicato avere cinque avversarie ogni squadra avrà cinque avversari allora andiamo a vedere ancora il Trapani il cammino del Trapani che ha chiuso il suo campionato considerando che è una matricola ha chiuso il suo campionato a quota 30 quindi in zona playoff un Trapani che tra l'altro era partito benino aveva vinto due partite su quattro aveva fatto due pareggi sempre nelle prime quattro partite poi ha incocciato un periodo piuttosto nero diciamo tre sconfitte consecutive contro Modena Cesena e Siena poi quattro pareggi e dopo questi quattro pareggi quando ci si aspettava un ritorno alla vittoria da parte del Trapani invece è arrivata la sconfitta interna contro il Carpi però attenzione perché il Trapani prima di perdere questa partita che fu giocata male contro il Carpi mi ricordo forse anche perché il Carpi è una bella squadra comunque il Trapani prima della sconfitta di Carpi aveva fatto vedere bel gioco aveva perso tre partite di fila non vinceva da sette partite è anche vero però è anche vero che tutte queste partite di qui il Trapani aveva fatto vedere del bel gioco invece contro il Carpi è giocato malissimo ha giustamente perso poi c'è stata anche la sconfitta di Palermo quindi un periodo nerissimo quello diciamo sì di queste nove partite dalla quarta di campionato quindi dalla sconfitta di Modena fino alla sconfitta di Palermo dopodiché il Trapani ha cominciato a ingannare la quarta ha cominciato con tre vittorie consecutive contro il Novara fuori contro la Juve Stabbia e dentro con il Lanciano due pareggi a Padova sul campo di Cittadella in casa contro l'Avellino due vittorie fuori a Terni e dentro con il Crotone e poi questo rocambolesco pareggio meritato sul campo del Trapani del Brescia da parte appunto del Trapani avvenuto in una partita con due gol addirittura entrambi nei minuti di recupero ma soprattutto con grande capacità del Trapani di poter recuperare anche in svantaggio con una squadra forte come appunto è il Brescia adesso comincia il giorno di ritorno il Trapani comincerà dalla partita in casa contro il Padova partita che si giocherà di venerdì quindi nell'anticipo di venerdì sera un Padova che già il Trapani ha battuto all'andata nella prima di campionato ricordo il Trapani andò a vincere a Padova ma dovrebbe avere anche la schermata che ci ricorda queste cose infatti ecco queste sono la partita di andata del Palermo a Modena all'andata finì 1-1 tra Modena e Palermo adesso vedremo come finirà sabato pomeriggio all'andata ci fu il gol di Andelkovic che in chiusura di primo tempo portò in vantaggio il Palermo che chiuso a primo tempo sull'1-0 nella ripresa a 4 minuti alla fine sul raco del Modena riuscì a pareggiare e finì 1-1 e quella era la prima di campionato vediamo se riesco a mostrarvi anche sì tra poco vi mostrerò anche come andarono le cose a Padova nella partita di andata per adesso visto che siamo sul Palermo diamo uno sguardo alle quote di questa partita tra Palermo e Modena è un Palermo favorito d'altronde le posizioni di classifica sono abbastanza chiare Palermo a quota 40-1 il Modena invece è in piena zona diciamo sì pericolosa a un solo punto dalla zona diciamo sì retrocessione quindi un Palermo favorito il segno 1 è pagato a 1,60 l'X3,50 il 2 è pagato addirittura 6 volte la posta ricordiamo che il Modena è in serie negativa già da 9 giornate per quanto riguarda l'Under e l'Over è più pagato l'Over quindi si pensa che sia una partita con pochi gol visto che l'Under è pagato a 1,75 Under ricordiamo significa fino a 2 gol in totale tra Palermo e Modena mentre l'Over vuol dire da 3 a più gol quindi minimo 3 gol per quanto riguarda gol-goal e no-goal si prevede un no-goal è più facile è pagato di meno 1,80 mentre il gol-goal cioè che segna il Palermo e che segna anche il Modena è pagato a 1,90 chiaramente i favori al pronostico sono per il Palermo noi non ci discostiamo da questo pronostico di base ecco qui invece come andarono le cose nella prima di giornata nella prima giornata di andata a Padova tra Padova e Trapani due gol di Matteo Mancosu subito a inizio di campionato in pratica tutti e due nella ripresa uno al 64esimo e l'altro nei minuti di recupero esattamente al 93esimo due gol di Matteo Mancosu concessero per misero al Trapani di vincere sul campo del Padova per 2-0 vediamo adesso questa partita che si sarà fra Trapani e Padova ripeto nell'anticipo di venerdì abbiamo un Trapani favorito perché segno 1 è pagato 2,10 però secondo me è anche un'ottima quota questo 2,10 perché insomma il Padova non sta andando bene ha avuto anche diverse problematiche societarie adesso è addirittura in zona retrocessione anche se ripeto è un Padova che ancora deve sapere come finirà il discorso diciamo sì della partita non giocata contro il Carpi però è chiaro ci sono ben 12 punti di stacco tra il Padova e il Trapani Trapani che già fu capace di vincerci all'andata sul campo del Padova per me questo segno 1 è ben pagato ben quotato insomma stando alle posizioni di classifica delle due squadre stando anche all'andamento e al loro gioco espresso fino a questo momento dopo che ciascuna squadra ha incontrato tutte le altre del campionato secondo me il Trapani è favorito e questa quota è più che buona nel senso che mi aspettavo che ci fosse anche una quota più bassa per questo segnone invece è bella alta a 2,10 li merita tutti diciamo i pronostici questo Trapani per quanto riguarda l'ander e l'over si pensa a una partita ancora meno ricca di gol rispetto a quella del Palermo qui addirittura l'ander è pagato a 1,65 cioè pochissimo mentre l'over è pagato a 2,10 quindi ci si aspetta una partita tirata insomma combattuta e con pochi gol io ripeto credo che il Trapani sia favorito e la quota è anche abbastanza alta e francamente non lo so fino a che punto sarà una partita così povera di gol per me il Trapani può anche poi dipende anche un po' chiaramente dalle condizioni del terreno dei terreni di gioco le previsioni danno cattivo tempo in arrivo anche in Sicilia in tutto il resto dell'Italia ci sono campi in questo momento molto ma molto pesanti se le previsioni saranno rispettate è prevedibile che anche dopo domani praticamente venerdì al comunale di Trapani ci possa anche essere un terreno pesante e chiaramente un terreno pesante è tutto molto più complicato per quanto riguarda l'andare in gol abbiamo parlato quindi abbondantemente della serie B andiamo a dare uno sguardo invece ai campionati che si stanno disputando per adesso anche se ce ne sono molti in campo europeo che sono ancora in sosta e riprenderanno le loro attività un po' più in là soprattutto in quelle zone nelle quali l'inverno è piuttosto pesante sto parlando di Russia Slovenia eccetera sono tutti campionati fermi in questo momento dicevamo questa settimana come è andata soprattutto la settimana scorsa è andata male per il Catania che sperava in qualche maniera di potersi tirare fuori a meno un poco da questi guai che sta attraversando per quanto riguarda la sua posizione di classifica ma giusto giusto la Fiorentina era una delle avversarie meno adatte per questo per questo scopo e infatti la Fiorentina ha rispettato pienamente il suo modo di giocare ha rispettato pienamente il pronostico già alla fine del primo tempo la squadra viola era in vantaggio per 3 a 0 e probabilmente anche lì si sono un po' calmate le acque nel senso che forse la Fiorentina non era neanche diciamo più continuato a pigiare sull'acceleratore avendo un vantaggio di 3 gol già alla fine del primo tempo e soprattutto considerando che già aveva avuto il successo di Matri la Fiorentina è una squadra che ha operato ottimamente fino a questo momento sul mercato aveva un problema con l'infortunio di Rossi aveva un altro problema con l'altro forte attaccante Mario Gomez che ancora stentava a recuperare l'infortunio venire fuori e è riuscito a tornare sul mercato è subito appeso un matri che ha subito segnato due gol e purtroppo è un altro giocatore che comunque sembra ancora qualche problema per quanto riguarda l'infortunio comunque la Fiorentina che si è rinforzata ha sopperito all'infortunio di Giuseppe Rossi e soprattutto ha preso un matri in ottima forma e già due gol ha segnato l'attaccante Viola andiamo al Catania per vedere anche il cammino della squadra rossa-azzurra che non è certamente brillante viste le posizioni di classifica è un Catania che quest'anno stranamente vero è che il Catania non è mai stato fortissimo fuori casa però un ruolino così pesante dalla prima giornata di ritorno cioè nessun punto fuori casa per il Catania 10 trasferte 10 sconfitte ha segnato soltanto 6 gol fuori casa e ne ha subito 27 non è che in casa abbia segnato tanto di più perché ha segnato solo 6 gol fuori ma in casa ne ha segnati soltanto 7 il Catania quindi è proprio tutto l'attacco che non va bene tra casa e fuori 13 gol in totale ma soprattutto pesante il resoconto dei punti conquistati in trasferta cioè nessuno in casa il Catania ha vinto solo 3 partite in fondo 2 a 0 contro il Chievo alla sesta di campionato poi ha dovuto aspettare altre 5 partite per battere Ludinese 1 a 0 e poi l'ultimo successo quello in casa contro il Bologna 3 quindi solo vittorie da avere per il Catania in questa prima metà del campionato più la prima di ritorno persa contro la Fiorentina adesso il Catania avrà in casa no scusatemi andrà fuori casa a Milano contro l'Inter che comunque è in crisi anche la squadra nera azzurra è combinata piuttosto male poi andrà in casa contro il Livorno fuori a Parma e in casa contro la Lazio insomma questi sono i primi quattro impegni diciamo così della squadra rossa-azzurra mi sa che è un campionato piuttosto segnato questo per la squadra vedremo come andrà a finire ricordiamo nel frattempo come andò a finire la partita all'andata quindi quando appunto il Catania ospitò l'Inter all'andata andrò malissimo perché l'Inter venne a vincere a Catania 3 a 0 grazie ai gol di Palacio al ventesimo al gol di Nagatomo al cinquantaseiesimo e a quello di Ricky Alvarez all'ottantesimo quindi sconfitta netta già all'andata vedremo come andrà a finire questo ritorno l'Inter non sta certamente meglio dell'andata anzi peggio in più c'è questa situazione di Guarin che per questo scambio con l'attaccante Vucinic della Juventus che è diventata una specie di farsa perché alla fine è saltato tutto ma non ha certamente brillato l'Inter in questa situazione per quanto riguarda scelte dirigenziali diciamo vediamo le quote favoritissima l'Inter il segno 1 è pagata 1,35 l'X a 4,70 l'eventuale vittoria del Catania è pagata addirittura 8 volte e mezzo la posta si prevede una partita comunque avara di gol perché l'Under è pagato scusatemi si prevede una partita ricca di gol perché l'Under è pagato molto l'Over invece è pagato pochissimo quindi ci si aspettano molti gol in questa partita e francamente io invece non riesco a immaginarmi tutti questi gol l'Inter sta giocando male il Catania segna con il contagocce francamente vi dirò mi piace questo Under di Inter Catania l'Under è pagato pochissimo e quindi siccome non è neanche abbinabile secondo me dal punto di vista del pronostico non è abbinabile a un Over perché ora si possono giocare anche le abbinate le cosiddette combo 1 a 1,35 e questa è la quota 1 più Over cioè che l'Inter oltre a vincere vince anche e la partita ci sono più tre o più gol è pagato molto di più da 1,35 penso che possa arrivare anche a 1,70 una cosa di questo genere però dico anche siccome non mi piace l'Over l'1 a 1,35 è pochissimo anche perché il Catania in qualche maniera anche dal punto di vista statistico prima o poi un punto fuori casa uno o più punti fuori casa dovrebbe prenderli in questo momento l'Inter non sta andando proprio benissimo ci sono anche contestazioni da parte del pubblico quindi se c'è una partita nella quale la catena potrebbe approfittare di una debolezza e potrebbe proprio essere questa comunque non mi piace l'1 non tanto per un discorso tecnico ma anche per un discorso statistico ma soprattutto c'è un under a 2,10 che merita attenzione vediamo la classifica completa della serie A non l'abbiamo ancora fatto perché siamo occupati in particolare della serie B e del Catania una classifica che resta ancora inalterata per quanto riguarda il distacco tra Juventus e Roma ha sempre 8 i punti di vantaggio della squadra bianconera sui giallorossi della Roma nel prossimo turno hanno due trasferte non facili né la Juve né la Roma la Juventus giocherà fuori casa contro la Lazio mentre la Roma andrà fuori casa sul campo del Verona che si ha perso contro il Milan ma ha perso l'85esimo sul calcio di rigore e poi giunta non disponendo di due giocatori forti uno di questi era Toni quindi vedremo un attimo se la Roma riuscirà a recuperare punti a una Juventus che ripeto fuori casa contro la Lazio sarà piuttosto impegnata è comunque una Juventus alla quale vanno sicuramente riconosciuti meriti è arrivata alla dodicesima vittoria consecutiva la Juventus sinora in un campionato nel quale di partite ne ha vinte ben 18 su 20 un solo pareggio e una sola sconfitta una Juventus che tra l'altro adesso ha già segnato ben 50 gol mentre la migliore difesa continua a essere quella della Roma che di Goni ha subiti 10 vediamo il cammino anche di questa squadra che sta dominando alla grande questo campionato tra l'altro ho guardato anche le classifiche dell'anno scorso e sono anche riportate sul giornale che diciamo si dirigo per quanto riguarda solo scommesse calcio un giornale che vi dà la possibilità di poter anche consultare questi dati cioè nell'ultima parte delle classifiche troverete il confronto con la stagione precedente beh la Juventus rispetto alla stagione precedente che era già stata una una stagione molto positiva per la squadra la Juventina ha addirittura 10 punti in più rispetto all'anno scorso quando eravamo arrivati allo stesso numero di giornate e pensate la Roma rispetto all'anno scorso ha addirittura 15 punti in più ma non sono bastati per uscire cioè nonostante la Roma avesse 15 punti in più rispetto all'anno scorso ha 8 punti in meno rispetto alla Juventus quindi due campionati estremamente diciamo sì condizionati da questa grossissima situazione positiva che riguarda sia la Juventus che la Roma dicevo una Juventus che ha perso punti soltanto contro l'Inter in trasferta 1-1 e sempre in trasferta a Firenze quando perse sul campo la Fiorentina per 4-2 e ricordiamolo quello mi ricordo appunto era stata una partita nella quale alla fine del primo tempo la Juventus vinceva 2-0 allora dicevo poi di solo scommesse calcio è un free press un giornale che si interessa di scommesse e così via ma soprattutto che vi dà informazioni utili per le vostre giocate e che adesso comincia ad essere diffuso anche in gran parte della Calabria a proposito di solo scommesse calcio volevo farvi vedere che la settimana scorsa nei nostri pronostici degli over 1.5 sono stati presi tutti e 7 cosa piuttosto sono rara già prenderne 5 su 7 significa vincere 4 volte la posta io vi dico sempre di non giocarli tutti lo specifico sia nel giornale ma anche in video prenderne 6 significa già vincere 5,3 volte la posta non ho neanche fatto il calcolo di quanto viene la posta prendendo la 7 perché non mi interessa suggerirvi qualcosa di cui non sono non sono convinto di cui diciamo sì su cui non sono d'accordo insomma se vi do 7 pronostici e ripeto prendere tutte e 7 è una cosa rarissima potrebbe anche ripeto io vi do questi come pronostico ma voi sceglietene 4 sceglietene 5 togliete quella partita che magari non vi interessa cosa del genere ma giocare tutte e 7 no prendere tutte e 7 sì è positivo perché chiunque ne ha giocati 5 o ne ha giocati 6 di sicuro ha vinto anche qualcuno che ne ha giocati tutte e 7 perché purtroppo nonostante lo scriva nonostante lo dica qualcuno che li gioca tutti e 7 c'è vabbè comunque è andata bene l'over 1,5 nel Catania il 3-0 la Fiorentina la vittoria del Parma a Chievo il 4-2 del Vicenza a Carrare il 2-0 del Lentella a Venezia il Parma che ha vinto 2-1 sì Cuneo Renate 2-0 per il Renate ricordo anche il 2-0 due gol in Sant'Etienne Lille e diversi gol anche in Arles Troyes nel campionato di Serie B francese francese è andata benino anche anzi bene direi nelle scommesse della settimana scorsa per quanto riguarda la scommessa del sabato e quella della domenica in quella del sabato sono stati presi 5 su 5 mentre io vi consiglio sempre di giocare con la correzione di un errore cioè giocare le quaterne anziché la cinquina tutte e 5 presi grazie all'over di Roma Livorno all'over di Juventus Sampdoria alla vittoria del QPR sull'Aldersfield l'1 dell'Alzeta Alkmaar sul Nacbreda e il 2 dello Sporting Lisbona sulla Ruga ripeto già 4 su 5 andavano bene presi tutte e 5 quindi chi ha giocato le 5 quaterne ha vinto tutte e 5 le quaterne chi invece ha giocato una quaterna togliendo uno dei risultati qualunque risultato è stato tolto ha vinto nell'altra scommessa quella per la domenica presi 4 su 5 ha solo sbagliato la somma gol pari di Atalanta Cagliari che invece è finita 1 a 0 quindi somma gol dispari ma per il resto preso l'1 della Provercelli preso l'over 1 e mezzo del Chievo preso l'1 del Paris San Germain contro Nantes ma qui effettivamente non è che ci volesse tantissimo è preso l'1 anche del Viteal contro l'Almeria quindi 4 su 5 presi nelle scommesse quelle di sabato e di domenica è andata benino anche lo schema nel quale vi suggerisco di comporre voi la vostra scommessa vi do 3 segni 1 3 somme gol pari 3 over e 2 altri risultati diciamoci diciamoci che non siano né segni 1 né somma gol pari né over dei segni 1 sono stipesi tutti e tre la Juventus Villareale Manchester City delle somme gol pari devo dirvi non mi sarei aspettato mai di non prendere nessuna delle due tra Udinese-Lazzo e Atalanta-Cagliari perché per me erano due partite da pareggio invece alla fine anche se nei minuti di recupero la Lazio ha vinto l'Atalanta ha battuto il Cagliari con 1 a 0 comunque come somma gol pari è stata presa soltanto quella tra West Ham e Newcastle sono andati a buon fine invece tutti e tre gli over l'over del Livorno l'over del Catania l'over di Pisa-Lanqui la finita 2 a 2 è andata bene anche col 2 del Tottenham che era ben pagato sul campo dello Suanzi era addirittura oltre il raddoppio quindi chi ha composto la scommessa nel 90% dei casi 90% magari no è riuscito comunque ad andare in zona vincite andiamo a vedere adesso la prima pagina di questa settimana di solo scommesse calcio una prima pagina nella quale si fa riferimento alla partita che fosse anche la più importante la più interessante della giornata quella tra Lazio e Juventus anche se secondo me anche l'altra partita quella tra Verona e Roma sarà piuttosto interessante volevo dirvi che a pagina 6 i non 7 a pagina 6 del giornale questa settimana ho voluto inserire questo schema che è una schema nel quale è anche molto facile trovarlo nelle varie agenzie è uno schema nel quale si aiuta chi deve giocare una scommessa a scrivere squadre a scrivere i codici che aiuta anche il gestore a introdurre la scommessa nella macchinetta gli eventi e così via io ne ho fatto uno un po' più ricco un po' più completo ho inserito anche la serie della partita in questione ho inserito magari non si vede bene in questo momento comunque ho messo ben 25 possibili partite uno schema dove c'è la possibilità di specificare anche il giorno e questo perché perché vi ho sempre suggerito e vi continuo a ricordare che mettere nella vostra scommessa una partita che si gioca dopo le altre o nel posticipo o si gioca dei lunedì magari mentre le altre sono di domenica eccetera è buono perché vi può aiutare a recuperare a fare una forma di copertura se per caso vi dovesse mancare soltanto quell'ultimo risultato per vincere una certa somma tra l'altro ho dato la possibilità in questo schema di poter scrivere due sistemi sistema numero 1 e sistema numero 2 ma soprattutto tenete presente che questo questo schema per me inserito già nel giornale cioè compreso nel giornale vi dà la possibilità di prendere appunti man mano che vado leggendo il giornale e poi un'altra cosa che reputo interessante è il fatto che questi schemi bene o male nelle agenzie si trovano ma nelle agenzie se uno c'è il giornale a casa deve prendersi un appunto generalmente questo schema non ce l'ha gli schemi sono disponibili spesso nelle agenzie ma non comodamente a casa comunque più di un motivo per prendere degli appunti e tal'altro vi ho aggiunto anche questa settimana in questo schema c'è anche un riassunto delle principali combinazioni per quanto riguarda lo sviluppo di sistemi per esempio sistemi con due errori un sistema composto da 20 partite dove uno vuole prendere 18 risultati sviluppa 190 combinazioni prenderne 17 su 19 sviluppa 171 combinazioni prenderne 16 su 18 253 e così via ho previsto anche alcuni casi con tre errori per esempio prendere 10 partite su una lista di 13 sviluppa tante combinazioni sono 286 9 su 12 sviluppa 220 per esempio 7 su 10 sviluppa 120 combinazioni e visto che si può giocare anche con cifre molto basse 0,25 centesimi giusto per citare quelle più più conosciute 120 combinazioni se dovessi giocarle da 0,25 verrebbero 30 euro quindi un sistema di 10 partite dove mi basta prenderne 7 per chiudere almeno una settina mi costa giocando da 0,25 centesimi praticamente un quarto cioè 30 euro ho messo anche un esempio invece di quanto vi costa se oltre a giocare per esempio prendiamo 7 partite uno vuole giocare 4, 5, 6 e 7 cioè le quartine le cinquine le sistine le settine in questo caso sono 64 combinazioni se invece vuole giocare su 8 partite deve prenderne almeno 5 quindi con 5, 6, 7, 8 sono 93 e così via quindi ho fatto anche 4 esempi un po' più completi ma che costano di più io sono dell'avviso per esempio se devo per esempio prendere 10 partite e su queste 10 partite per esempio se io gioco 7 su 10 vuol dire che posso sbagliare 3 risultati ma gioco soltanto le settine sono 120 settine se invece devo giocare 7, 8, 9 e 10 devo andare a giocare 176 combinazioni cioè 56 combinazioni in più è vero che se prendo più di 7 risultati vinco anche le ottine ma è raro che succede ma soprattutto voglio dirvi quando prendete anche 8 risultati le settine cominciano a essere già 8 quindi sappiate accontentarvi 120 combinazioni 7 su 10 già sono ben 56 combinazioni in più in meno da giocare rispetto a 7, 8, 9 e 10 questo è una piccola un piccolo suggerimento insomma che può anche esservi utile allora le ore di nostra trasmissione velocemente innanzitutto vi ricordo che le televisioni sulle quali vado in onda sono quelle del gruppo Mediaman sono 4 di quelle del gruppo Mediaman su canale 19 Teleone il venerdì a mezzanotte e mezza e sabato mattina alle 10 e 30 su canale 185 c'è Antenna 1 giovedì alle ore 23 e 30 sul canale 196 Video One il venerdì alle ore 19 sul canale 641 Tele Palermo giovedì e venerdì alle ore 23 allora andiamo a dare uno sguardo ai campionati esteri domenica sono in campo tutte e 4 quelli principali Inghilterra, Spagna, Francia e Germani in Spagna c'è il Real Madrid che ha approfittato dei due pareggi consecutivi del Real Madrid e dell'Atletico Madrid per recuperare ben 4 punti adesso in classifico lo vedremo è già a ridosso di Barcellona e Atletico Madrid che sembravano avessero fatto il vuoto invece due settimane fa nello scontro diretto fra Barcellona e Atletico Madrid e Atletico Madrid e Barcellona è finita a 0-0 quindi hanno pareggiato tutte e due ma nel turno successivo hanno pareggiato di nuovo e Barcellona mi pare con il Levante e l'Atletico Madrid in casa in casa varia con Siviglia insomma hanno pareggiato di nuovo praticamente il Real Madrid nelle ultime due partite ha fatto 6 punti Atletico Madrid e Barcellona hanno fatti 2 quindi l'Atletico Madrid ha recuperato 4 punti tra poco lo vedremo mentre invece vanno come un treno le tre diciamo sì le tre squadre più forti dell'Inghilterra nella Premier League da poco lo vedremo perché vincono tutte e tre contemporaneamente da qualcosa come 4-5 partite in Bundesliga torna in campo questa settimana c'è il Bayern che è già un vantaggio notevolissimo imbattuto e tra l'altro una partita anche in meno in Francia invece c'è il Paris Saint-Germain comunque cominciamo con la Spagna eccola qua velocemente la ricordiamo questa classifica 51 punti per l'Atletico Madrid e Barcellona il Real Madrid adesso è a un solo punto quindi si riapre un po' questa lotta che sarà sicuramente soltanto tra queste tre perché l'Atletico Bilbao pensate un po' è a quota 39 cioè 12 punti di distacco dalle due di testa questa è la situazione nella Liga Spagnola dove ripeto non ci sono squadre imbattute tutte hanno perso almeno una partita e dopo il trio di testa 51 punti Atletico Madrid e Barcellona 50 Real Madrid poi c'è l'Atletico Bilbao a 39 che in questo momento è in zona Champions ma non diretta perché l'accesso alla Champions diretta ce l'hanno le prime tre e poi per la zona UEFA ci sono in questo momento Villarreal a quota 37 e riassociato a quota 33 cose particolari vediamo un po' non vince da 13 partite il Real Betis ma che comunque è ultimo è già ben staccato dalla zona salvezza per quanto riguarda pareggi non ci sono ritardi particolari per quanto riguarda le serie positive la più lunga è quella dell'Atletico Madrid che non perde da 11 partite il Real Madrid non perde da 10 e il Sevilla non perde da 8 vediamo la Premier League quindi in Inghilterra vi dicevo viaggiano come un treno queste tre squadre l'Arsenal a 51 il Manchester City a 50 e il Chelsea a 49 se volessi essere un pochettino più preciso mi basterebbe prendere una copia di tutto scommesse calcio per ricordarvi effettivamente da quanto tempo vincono contemporaneamente queste tre squadre dunque praticamente hanno tutte e tre vinto le ultime 5 partite quindi da ben 5 turni vincono tutte e tre contemporaneamente Arsenal Manchester City e Chelsea questo per la gioia di chi scommette su queste squadre forti vero è che i loro vittori sono pagati pochino ma è anche vero che se vincono con questa costanza giocare sempre questo trio avrebbe già fatto vincere un sacco di soldi a chi ha la possibilità di puntare anche molto su queste tre squadre e insomma è già da 5 settimane che queste tre squadre giocano in casa o giocano fuori vincono andiamo avanti vediamo che particolare situazione c'è per quanto riguarda i ritardi Swansea non vince da 8 partite poi vi segnalo che da ben 18 turni non pareggia il Fulham e vi ricordo anche che giocare sulla somma gol pari paga sempre 1,80 e la somma gol pari si può prendere anche se la partita non finisce in parità in Francia dicevamo comanda il Paris Saint Germain il Monaco adesso è a quota 45 ma soprattutto è un Monaco che ha perso per diverse settimane il suo attaccante di punta cioè Falcao quindi un Monaco che adesso ha un giocatore fortissimo e meno in attacco il Paris Saint Germain già il suo vantaggio sarebbe acquisito diciamo che c'è al terzo posto il Lille a quota 40 ma non mi pare che il Lille possa esprimersi in modo tale da impenserire la leadership del Paris Saint Germain ricordiamo che in questo campionato in Francia le prime due vanno direttamente in Champions la terza ci va diciamo così deve andare ai preliminari e che per il quarto posto vale per la Europa League e retrocedono invece le ultime tre pareggi non pareggia da nove partite Nance e non pareggia da sette turni il Sosho chiudiamo la zona estera con il Bayer Monaco che vi dicevo torna in campo con questo questo weekend insieme a tutte le altre ed è un Bayer Monaco che ha sette punti di vantaggio sull'Everkusen e fra l'altro deve ancora recuperare la partita fuori casa contro lo Stoccardo quindi nonostante una partita in meno questa squadra che è imbattuta in questo campionato una fosse l'unica squadra europea imbattuta nei campionati professionistici insieme alle due squadre della prima divisione Girone A e cioè Lentella e la Provercelli fra l'altro attacco di Gallung è migliore 42 gol per trovare il secondo migliore attacco bisogna scendere ai 38 gol del Borussia Dortmund ottima difesa subito soltanto 8 gol pensate che la seconda migliore difesa tedesca di Gorni ha subito il doppio del Bayer cioè 16 gol subiti dal Bayer e Leverkusen andiamo avanti anche perché siamo nell'ultimo quattore di trasmissione negli appunti per le vostre scommesse vi annunciamo appunto vi suggerisco di prendere carta e penna per eventualmente prendere degli appunti anche se è gran parte di tutto ciò che vi sto dicendo potete trovarlo tranquillamente anche sul giornale che è molto più facile da consultare il nostro Tris Dassi cioè le tre partite facili diciamo quotate anche poco per vincere diciamo se non partino più spesso ci piacciono l'uno del Napoli contro il Chievo l'uno del Borussia Dortmund sull'Ausburg e l'uno del Valencia sull'Espanol Espagnol questi tre segni uno pagano circa tre volte la posta quando dico circa perché dipende sia dal gestore ma dipende anche da quando si gioca perché essendo tre segni uno molto giocati è chiaro che le quote inizio settimana escono in un modo e poi magari durante il corso della settimana subiscono variazioni perché si abbassano nello schema del comporre la vostra scommessa per quanto riguarda i segni uno innanzitutto vi ricordo che comporre la vostra scommessa per me significa prendete un risultato dei segni uno scegliete quello che vi piace di più una somma col pari scegliete quella che vi piace di più una partita da over scegliete quella che volete e poi se volete aggiungere un quarto risultato potete scegliere fra questi due che suggeriamo nella quarta colonna i segni uno che vi suggerisco sono quelli del Lione del Napoli e del Borussia Dortmund le somme gol pari che ci piacciono quella Valenciennes contro l'Orient quella nella serie B spagnola tra Alcorcorn e Real Madrid Castiglia insomma Real Madrid B diciamo e l'altra somma gol pari che ci piace nell'Inghilterra C Norwich usatemi qui siamo nella Premier League Norwich Newcastle gli over i tre over che vi segnaliamo l'over di Nocerina Pisa l'over di Fiorentina Genoa e l'over di Livorno Sassuolo vi ricordo che non sono soltanto anzi non sono mai soltanto previsioni tecniche ma aggiungiamo chiaramente un discorso di statistica ecco perché a volte vi spuntano over magari in una partita di prima divisione in questo caso ci piace molto quello tra Nocerina e Pisa come altri ci piace che ci siano almeno due gol nel secondo tempo di Murcia Mallorca quindi secondo tempo Murcia Mallorca over 1,5 e poi ci piace il fatto che Livorno possa tornare a segnare quindi Livorno Sassuolo casa segna detto questo tra poco andremo a vedere anche le quote una scommessa che paga sei volte e mezzo la posta ho messo in questa scommessa l'over di Varese Cesena Varese possibilmente la prossima volta Cesena l'uno del Lille contro il Rennes l'uno del Torosa contro il Bastia e nel Friburgo contro il Bayer Leverkusen over 1,5 cioè almeno due gol questi 4 eventi pagano circa sei volte e mezzo la posta le partite il Lille gioca di venerdì di sabato giocano invece le altre tre partite le altre tre squadre il Varese il Tolosa e il Friburgo come alternative se magari volete togliere la partita del venerdì oppure se volete togliere qualche risultato di quelli sostituire qualche risultato di questi che non vi piace c'è come suggerimento alternativo l'uno del Trapani oppure per esempio l'over 1,5 nella partita di prima divisione girone A tra Feralpi e Provercelli i consigli della prima pagina di solo scommesse calcio l'uno alla Napoli l'uno alla Fiorentina l'over di Verona Roma l'over 1,5 di Varese Cesena e l'uno del Trapani contro il Padova questi sono i pronostici della prima pagina di solo scommesse calcio uno sguardo alle quote della Serie A le vediamo tutte insieme poi magari andiamo in qualche partita andremo sullo specifico allora queste sono le quote del prossimo turno vi ricordiamo che innanzitutto dunque sono partite che si giocano di sabato 25 gennaio Napoli Chievo 25 gennaio anche Lazio Juventus tutte le altre si giocano di domenica allora abbiamo visto insomma le quote più basse sono dunque vediamo un po' c'è a 1,30 a 1,30 la vittoria del Napoli sul Chievo bassissima a 1,35 i segni 1 di Inter Catania e Florentina Genoa poi è favorita anche la Juventus fuori casa sul campo della Lazio segno 2 pagata a 1,70 e poi come favoriti ci sono anche i segni 1 di Sampdoria Bologna 1,75 e Torino Atalanta anche qui 1,75 favorito anche il Milan fuori casa sul campo del Cagliari il segno 2 è pagato a 1,85 uno sguardo agli under e gli over diciamo che l'over più pagato è questo qui che vi segno con il mouse cioè il segno over di Sampdoria Atalanta Sampdoria Bologna che è pagato a 2,10 l'over invece più basso l'over più basso ce ne sono due over bassi e sono l'1,65 di Inter Catania e poi bassissimo anche l'over di Verona e Roma pagato a 1,65 inutile guardare gli under perché lì dove ci sono i bassi nell'over evidentemente c'è la coda più alta dell'under e viceversa dove l'over invece è più alto l'under è invece più basso quindi ci basta fare l'analisi dell'over andiamo a vedere la serie B una serie B che vedrà tanto per cominciare come vi ricordo vi ho già ricordato il 24 gennaio c'è l'anticipo tra Trapani e Pado quindi di venerdì tutte le altre partite sono di sabato terrenne Crotone-Siena che si giocherà lunedì sera alle 20.30 vediamo le quote allora delle quote qui vedo che la quota più bassa è proprio quella della capolista Palermo che ospita il Modena e la quota è a 1,60 ed è anche la quota più bassa che c'è dei segni 1 X e 2 un'altra quota bassa la troviamo a Bari dove l'uno del Bari sulla Reggina è pagato a 1,90 poi per il resto troviamo quote piuttosto diciamo sì equilibrate uno sguardo agli under e over vediamo gli over l'over più pagato eccolo qua è l'over di Carpi Ternana che è pagato a 2,25 pensate un po' l'under è pagato appena appena a 1,57 quindi questa è la partita nella quale chi ha fatto le quote la reputa la più probabile come pochi gol segnati cioè Carpi Ternana mentre la partita nella quale invece l'over è il più basso cioè quella dove si reputa molto facile l'over beh insomma ce ne sono tre e non sono poi tantissimo molto facili praticamente non c'è una sola partita nella quale l'over è pagato di meno rispetto all'under comunque quello più pagato quello tra Carpi e Ternana mentre quelli meno pagati sono Crotone Siena Juve Stabia Pescara e Palermo Modena sono gli over meno pagati ma sono sempre come quota superiore ai corrispondenti under cominciamo da uno sguardo alle quote partita per partita cominciando dalla serie A Lazio Juventus la quota più bassa è quella del 2 perché chiaramente la Juventus è favorita il segnato è pagato 1,70 Dix a 3,50 la vittoria della Lazio sulla Juventus è pagata ben 5 volte la posta è una partita nella quale i bookmakers non hanno fornito preferenze tra under e over reputano possibili hanno le stesse probabilità di uscita e sono pagati secondo loro alla stessa quota 1,85 under 1,85 over però per quanto riguarda gol no goal le quote sono diverse il no goal è pagata 1,90 mentre il gol come vedete è pagata 1,80 quindi diciamo che tra i due fosse ancora più facile che ci possa essere un over diciamo 1,5 in Lazio Juventus io sono nell'avviso invece che è una partita che può dare molti gol a chi andrà a vederla Verona Roma l'altra partita di cartello di questo turno della Serie A una una partita nella quale la Roma rischia perché Verona è una gran bella squadra non è un caso che si trovi a quota 32 tra l'altro ripeto a Milano contro il Milan ha perso soltanto sul calcio di rigore e a pochi minuti alla fine sarà una partita secondo me molto molto interessante molto bella anche da vedere anche qui devo dire che sono d'accordo un po' con i bookmakers che hanno dato l'over come segno favorito quindi si aspettano anche i bookmakers molti gol in questa partita e devo dirvi anch'io vedo questo over molto interessante anche perché le due squadre hanno entrambi un ottimo attacco è favorita comunque per la vittoria finale alla Roma il 2 è pagata 1,80 x3,45 il segno 1 è pagato quasi 4 volte e mezzo la posta per esattezza 4,4 devo dire che è pagata pochissimo la doppia chance x2 quindi qui se si vuole puntare qualcosa bisognerà per forza andare sul 2 della Roma e da forse vedere un po' di abbinare questo 2 con l'over per poter avere una quota insomma un pochino più alta dell'1,80 andiamo a parmo di Nese beh insomma le due partite principali erano quelle di Juventus e Roma adesso andiamo su partite un po' meno interessanti certo l'Udinese che abbiamo visto giocare che qualcuno di voi ha visto giocare in Coppa fuori casa contro il Milan dove ha vinto per 2-1 è un Udinese che sembra ben diversa da quella di inizio campionato e soprattutto non sembra assolutamente una squadra a quota 20 cioè a 3 soli punti della zona retrocessione ha giocato bene la squadra di Guidolin l'attacco è temibile però dall'altra parte c'è una squadra anche lì ben quadrata ben assestata ben allenata da Donadoni una squadra scientifica tra virgolette perché sa sempre cosa fare in campo perché Donadoni è un allenatore ben diciamo così che sta molto attento ai particolari è una bella squadra tosta soprattutto ho l'impressione che fra due squadre toste chi potrebbe pagarne le spese potrebbe proprio essere il numero dei gol e devo dire che di questo avviso sono anche bookmakers che hanno quotato l'under a 1,75 mentre l'over è 1,95 beh piace anche a me l'under piace anche a me l'under ve lo suggerisco per quanto riguarda 1x2 francamente è una partita troppo aperta insomma qualunque segno può venire vi ripeto mi piace l'under di Parmodinese poi c'è Sampdoria Bologna siamo negli ultimi due minuti di termissione Sampdoria Bologna è messo male questo Bologna quest'anno poi si addirittura dovesse andare via anche a Diamanti cosa che sembra molto probabile sarebbe davvero secondo me una mazzata che potrebbe ripeto dare molto fastidio e soprattutto ridurrebbe di molto le possibilità di salvezza della squadra Felsinea comunque favorita la Sampdoria 1,75 segno 1 l'X a 3,40 il 2 pagato a 4,80 e questa è una partita anche questa nella quale l'under la fa da padrone l'under pagato 1,65 l'over a 2,10 qui devo dirvi che secondo me la differenza tra queste due squadre c'è e l'over è un over interessante ma soprattutto per i gol che può fare la Sampdoria ci fermiamo sulla schermata di Torino-Atalanta l'ultima partita che vi posso far vedere per quanto riguarda le quote favorito il Torino l'1 e 1,75 l'X a 3,40 il 2 e 4,80 qui è favorito l'over vedete è pagato due volte la posta e il Torino con i suoi attaccanti potrebbe avere partita vinta anche qui l'1 contro l'Atalanta non ci dispiace però secondo me non è una fissa quindi chi può se lo copra con la doppia scienza 1X che comunque è pagata pochino quindi o 1 o magari associare anche la somma gol pari se la partita non dovesse finire 1 è molto probabile che finisca in pareggio e poi vi ricordo l'1 potete prendere lo stesso se lo giocate come somma caro se vince 2-0 o 0-2 o 3-1 o se dovesse perdere in casa 3-1 il Torino insomma la somma gol pari si può prendere sia con il pareggio ma anche con la vittoria di una o dell'altra squadra siamo in chiusura grazie per averci seguito ci vediamo la settimana prossima ciao grazie a tutti